Noi siamo già pronti, Valeria Ciarambini è la nostra candidata alla presidenza di regione, però voglio precisare una cosa. Adesso il partito di Renzi, il partito d'Alfano e il partito di Berlusconi verranno tutti in campania a dire che vogliono il nostro bene. Anche Caldoro che ha governato cinque anni dirà che vuole il nostro bene e vuole cambiare la campania. Queste persone stanno tagliando fondi alla sanità campana. Nell'ultima legge di stabilità hanno tagliato altri fondi agli enti locali e se la gente muore sulle barelle è colpa dei tagli. E sono tutti complici di questo disastro. Quindi prima ancora dei nomi del candidato del Movimento 5 Stelle e degli altri partiti, prima ancora dei nomi, puntiamo sulla coerenza, puntiamo su gente che non ci abbia preso in giro in tutti questi anni.